Vi avevo promesso un grande concerto al forum, un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire, questo però in sicurezza, ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere purtroppo rimandato tre volte. Vi avevo promesso anche che vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli per date che nessuno in Italia vi può assicurare oggi, che saranno con certezza rispettate. E quando dico restituito, intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro. Non credo sia corretto per la situazione che ancora tanti in Italia stanno vivendo, e credo che anche il prezzo di un biglietto oggi faccia comodo ad una famiglia. E che se uno ha pagato poi per vedere me in concerto, è giusto che veda me, e non ciò che viene deciso e imposto da una società terza. Mi dispiace di essere arrivato a questo punto, ma non mi piace rischiare la vita degli altri e nemmeno prendere per il culo nessuno. Quindi il concerto del 20 giugno è stato ufficialmente annullato. Quando potremo rivederci in concerto, però vi prometto che sarà lo spettacolo più bello della vostra vita. Preparatevi perché sto arrivando anche con tanta nuova musica. A tra poco.